In questo numero del Salustigì, l'esperta, problemi di udito per un bebè su mille e non a rischio. Ecco come la serotonina influenza il comportamento. Vaccino anti-Alzheimer testato su persone con sindrome di Down. Bimbi che parlano tardi, non rispondono al richiamo della mamma, non alzano il viso se sentono la voce di un estraneo. A volte si pensa a una forma di bigrizia, ma potrebbe trattarsi di un deficit uditivo. Ma quanti sono i piccoli a nascere con questo problema e quali sono i fattori di rischio? La prematurità, il basso peso alla nascita, una familiarità positiva per sordità, malattie infettive in gravidanza e uno su mille dei nati non a rischio presenta problematiche uditive. Come si rileva un deficit uditivo nei bebè? Con uno screening uditivo neonatale fatto direttamente nel reparto maternità attraverso un apparecchio molto semplice da utilizzare che può usare il personale del nido, le autoemissioni acustiche che registrano l'attività proprio della coclea, dell'organo neurosensoriale uditivo. Un team di ricercatori guidato dall'Italia è riuscito a ricostruire il meccanismo d'azione dell'ormone della felicità a livello dei circuiti neuronali dei gangli della base. Manipolando i livelli di serotonina, i ricercatori hanno potuto definire per la prima volta il meccanismo d'azione di un suo specifico recettore, il 5HT4, e il tipo di connessioni neuronali che modula. Potrebbero essere le persone con sindrome di Down a svelare il mistero della malattia di Alzheimer. Negli Stati Uniti uno studio clinico su giovani adulti con sindrome di Down sta testando un vaccino sperimentale contro l'Alzheimer, patologia di cui le persone con questa sindrome hanno un rischio maggiore di ammalarsi con l'età. Il vaccino dovrebbe prevenire l'Alzheimer stimolando il sistema immunitario dei soggetti e bloccando la formazione delle placche nel cervello.